...da oggi diretta per parlare di ambiente a Borgo Montello, una frazione fondata nel 1930 a Latina nell'ambito delle operazioni di bonifica. Sul posto c'è Alfredo Di Giovampaolo. Buongiorno Alfredo. Buongiorno Mariella, l'avete vista nelle immagini iniziali, la state rivedendo ora. Questa è la discarica di Borgo Montello, una discarica enorme, è la seconda nel Lazio dopo quella di Malagrotta, pare che sia la quarta per estensione in Italia. E come vedete chi vive qui di fronte la discarica non è molto contento di questa presenza. Attenzione pericolo monnezza, queste sono le persone che vivono in questa zona, in questa parte di Borgo Montello, una zona che tanti anni fa era aperta campagna, una zona agricola, per questo sono venute qui queste persone, ma più avanti parleremo con loro. Intanto inizierei a raccontare la storia di questa discarica, attorno alla quale ruotano alcuni misteri. Si parla di fusti tossici sotterrati, c'è stato uno strano omicidio tanti anni fa, ma andiamo per gradi. Iniziamo con Antonio Turri di Libera Lazio, Libera l'associazione antimafia fondata da Don Luigi Ciotti. Iniziamo a raccontare la storia di questa discarica che parte negli anni 70 con il proprietario del terreno che decide di iniziare a utilizzarlo come discarica abusiva praticamente. E poi il Comune dà l'assenso, il Comune, la politica, tutta la politica di fatto dell'epoca dà l'assenso, inizia questo massacro del territorio, nel senso che le discariche inizialmente erano sicuramente discariche non protette, fuori da qualsiasi controllo e da qualsiasi normativa. Ed è una storia che va scritta, è una storia di campagne elettorali, di fatto, è una storia di consenso, di voti, di campagne elettorali ed è una storia che comincia a inquietare soprattutto i cittadini del luogo. Vengono qui in quegli anni, vengono qui come attirati dal miele le mosche i casalesi in quel periodo, il clan dei casalesi, oggi è storia anche giudiziaria, il pentito Carmine Schiavone, allora cassiere del clan dei casalesi ne parla, interravano fusti tossici, fusti tossici nocivi, prendendo 500.000 lire dell'epoca. Ecco, Marco Mizzolo, lega ambiente di Latina, Carmine Schiavone parla di questi fusti, fusti che proverrebbero dalla nave Zanobia, questa nave che ha fatto il giro del Mediterraneo, poi è arrivata a Ravenna dopo aver scaricato fusti provenienti da tutte le fabbriche chimiche d'Europa. Fusti che si perdono, nel senso che se ne perdono le tracce, con ogni probabilità sono stati interrati al di sotto di questa discarica, con la complicità evidentemente di una serie di personaggi ed anche della politica che non ha mai voluto indagare fino in fondo su questo mistero che in realtà... Parliamo di probabilità perché qui sono state fatte delle indagini dall'ARPA, dall'Enea, che esito hanno dato? Qui sono state fatte delle indagini accurate, magnetotermiche, hanno rilevato la presenza di un lastrone, di fatto di ferro che indica per l'appunto delle anomalie gravissime, sotto i quali con ogni probabilità ci sarebbero i rifiuti tossici, chiaramente altamente nocivi, sui quali è necessario indagare quanto prima in maniera molto attenta e molto precisa, primo per non inquinare ulteriormente il sito, ma anche per far luce su una vicenda drammatica, pesante dal punto di vista ambientale, ma anche perché per l'appunto da questo poi ne è scadurito un unicidio gravissimo, è quello di Don Cesare Buschi. Ne parleremo tra poco, la regione Lazio nel 2008 ha stanziato dei fondi, 850 mila euro, per avviare lo scavo a dicembre del 2011, questi fondi sono stati resi disponibili per iniziare l'attività di scavo, dovrebbero essere appaltati a breve i lavori, ne riparleremo tra poco e riparleremo tra pochi minuti dell'omicidio di Don Cesare Buschin. Linea allo studio. Sì, e noi andiamo di nuovo a Latina, a Borgo Montello, dove c'è Alfredo Di Giovanpaolo. Torniamo qui per parlare nuovamente della discarica di Borgo Montello e di un delitto che si sarebbe consumato, forse legato a questa discarica, sicuramente a pochi passi da questa discarica, da quella parte, dietro quegli alberi, esattamente dove si trova il vecchio Borgo, Borgo Montello appunto, lì nel 1995 è stato trovato, ucciso, incaprettato Don Cesare Buschin, il parroco di Borgo Montello. Circostanze misteriose, un omicidio avvenuto in circostanze misteriose, dovremmo avere delle immagini che appunto ci mostrano Don Cesare Buschin, il luogo in cui è stato ucciso, la sua parrocchia. Qui con me c'è Claudio Gatto, che è stato uno dei collaboratori più stretti di Don Cesare Buschin. Si parla da tanti anni di questo omicidio, ma ancora non esiste un responsabile. Voi ovviamente vi siete fatti un'idea di quali possono essere almeno i moventi di questo omicidio. Sì, diciamo nel contesto possiamo leggere dei segnali di preoccupazione prima e poi successivamente al delitto diciamo delle conferme di sospetti che noi come popolazione avevamo. Diciamo che potrebbe essere legato a quello che ha visto Don Cesare Buschin dalla sua finestra che affacciava proprio su questa discarica. Ma a parte la finestra, io adesso stavo osservando questa strada, Don Cesare la percorreva tutte le settimane per portare a queste straziate famiglie di questa zona la famiglia cristiana che era l'occasione per lui di incontrare le famiglie e parlare. E faceva tutta questa strada fino a un chilometro oltre la discarica dove c'è un capitello e dove si fermava il territorio di sua competenza. Quindi lui conosceva perfettamente la situazione di questo posto, le difficoltà di queste famiglie e di questi problemi lui si faceva davvero carico. E vedeva soprattutto questo movimento di camion nella notte che venivano qui a scaricare probabilmente fusti tossici, poi sarà accertato dallo scavo però sicuramente c'era un movimento di camion notturni che vedevate anche voi del borgo. Sì, lui certamente era a conoscenza di queste storie perché era un tipo curioso ma è curioso nel senso buono, nel senso che si preoccupava di tutto quello che non andava e in quello che lui poteva fare si rendeva disponibile. Probabilmente una sua denuncia o la paura che denunciasse qualcosa è costata la vita a Don Cesare Boschin. A 17 anni di distanza dalla sua morte Don Luigi Sciotti ha chiesto la riapertura di un'indagine per accertare le cause della morte e individuare i responsabili. Per il momento ci fermiamo qui, nel prossimo collegamento noi partiremo da quella tenda. Vi raccontiamo tra poco. Partiamo come vi avevo annunciato da questa tenda che ha davanti uno striscione per non dimenticare sette mesi di protesta messa in atto dagli abitanti di questa zona intanto a partire da quelli che vivono in questa casa che per sette mesi, due anni fa si sono trasferiti all'interno di questa tenda. La signora Carla Piovesan vive in questa casa ma per sette mesi avete vissuto in questa tenda. Perché avete fatto questa scelta? Abbiamo fatto questa scelta proprio per gridare la nostra disperazione per una situazione che è inaccettabile. Inaccettabile. Da trent'anni viviamo una situazione, siamo praticamente prigionieri nelle nostre terre. Una situazione che non è legata soltanto a questi fusti, se ci sono, ma alla presenza della discarica in assoluto. Sì, perché la monnezza, la classica monnezza, a queste distanze così ravvicinate, uccide. Qui ci sono molti casi di tumori, morti per tumori. Sì, molti nostri familiari sono morti per... Praticamente tutte le famiglie che vivono in quest'area. Sì, anche molte malattie importanti. La monnezza a queste vicinanze così ristrette, uccide. Fisicamente e moralmente. Donatella Piovesan, per sette mesi in questa tenda. Ci racconti un po' questi giorni, come sono stati? Sono stati mesi sofferti perché innanzitutto poi è venuta sempre tanta gente a farci tante promesse, a farci vedere tante cose belle che potrebbero aver fatto, ma poi adesso qui ancora siamo così, ancora non si fa... Oltre alle promesse non è arrivato altro. Altro, proprio niente. Poi diciamo la salute, come ha detto Carla, ma qui laviamo i bambini con questa acqua, mangiamo, facciamo tutte queste cose, quindi... Ecco, l'aria è abbastanza pesante. Un'altra presenza importante in quei sette mesi è stata quella della signora Grazia. Lei veniva da Latina ad aiutare questo presidio, a sostenere questo presidio? Con la speranza di respirare un po' di aria buona, invece noi dovevamo stare chiusi in casa perché la puzza ci uccideva. E perciò venivo per solidarietà, è veramente uno schifo. Signora Clara, voi quando siete venuti a vivere qui era un altro posto, insomma, non c'era la discarica. Il vostro accento tradisce un po' delle origini nordiche. E niente, qui c'era tutto vigneto, era tutto bello verde e dopo, col passare del tempo, è venuto questa schifezza. In quest'area è stato istituito un presidio fisso di Libera, c'è anche la presenza di lega ambiente. La richiesta è quella di ripulire questa zona, di fare chiarezza sui fusti tossici, di fare chiarezza sull'omicidio di Don Cesare Boschin. Da Borgo Montello per oggi è tutto, Lina allo studio.